Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, un sacco di novità anche per oggi per quello che riguarda il nostro Fortnite. Tanti gli argomenti trattati nel video di oggi a partire ragazzi da grandi novità per la mappa del tesoro. Sì ragazzi, ne abbiamo già parlato ieri mattina ma anche oggi ci sono nuovi elementi che ci cominciano a fare capire che la season numero 8 sarà molto concentrata su questo particolare oggetto. Parleremo anche della nuova skin che sembra essere ottenibile gratuitamente. Una skin promozionale che vi farò vedere e che potrete ottenere in un futuro prossimo. Non mancheranno ovviamente una bella carrellata di leaks che vi terranno sempre aggiornati su tutto quello che succede nel dietro le quinte di Fortnite. Intanto voglio ringraziarvi di cuore per utilizzare il mio codice creator XIUDERONE. Grazie mille per il mega supporto. Mi raccomando taggatemi nelle storie di Instagram in modo che posso ringraziarvi e se ho spazio ritaggarvi. Mi raccomando anche di iscrivervi al canale, soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna news e nessun aggiornamento sulle mie live. Ma prima ragazzi la domandina, lo sapete ve la devo fare, ci tengo tantissimo alla domandina ragazzi, qua sotto i vostri commenti. Ed è molto molto semplice. Come ti sembra il cannone? Questo nuovo veicolo, chiamiamolo così, adesso ci abbiamo un po' preso tutti confidenza. Voi cosa ne dite? È bello? È brutto? È una cacata? Secondo me, quando ci buttiamo nel cannone dovremo avere almeno la possibilità di aprire il deltaplano in volo, perché sennò si finisce proprio a culo in giro per la mappa, che secondo me non è proprio una cosa bellissima. Ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciao Giolebande e Bando alle Ciance, andiamo subito subito a parlare ragazzi della mappa che vi avevo fatto già vedere nel video di ieri. Questo è un oggetto trovato nei file di gioco, quindi è un oggetto che potremo veramente avere nell'inventario. Più probabilmente potrebbe essere magari tipo il lama, come nelle modalità fughe, quella di quest'estate, quindi un oggetto che ci riempie uno slot dell'inventario. E non sappiamo tantissimo su questa mappa, ma abbiamo delle nuove immagini. Innanzitutto in game è presente una piccola mappa, non è utilizzabile, non è assolutamente interattiva con il personaggio, ma c'è e si trova praticamente come vedete nella minimappa sulla destra del fiume, quindi il classico fiume che taglia a metà la mappa. Ma quella che ci interessa a noi ragazzi è proprio questa. Questa proprio nel dettaglio è un'immagine presa dai codici di gioco, quindi dai file sorgenti e ci conferma che la mappa sarà divisa in due parti ragazzi. Questa è la prima parte, quella di destra e questa è la seconda capovolta, dovreste vederla probabilmente girata nell'altro modo. Insomma due frammenti che formano questa immagine ragazzi. Questa è l'immagine vera della mappa, ve la faccio vedere più ingrandita. Eccola qua ragazzi, questa è la mappa interattiva che si troverà in game e non sappiamo a che cosa serve. Però ci sono degli elementi molto interessanti in questa immagine. Il primo è dietro di me ragazzi, voi non lo vedete, ve lo faccio vedere. Guardate un po'. Allora innanzitutto è molto molto simile al piccone Nautilus, quello che è arrivato in poche parole verso la fine della season 7. E poi ragazzi dai è un kraken, è un kraken con un occhio solo e secondo me sarà una parte molto molto interessante che ben presto arriverà in questa season. Altro elemento molto interessante è ovviamente la X ragazzi, insomma il punto di svolta su cui tutta la season 8 gira. Quindi il punto del tesoro che ancora non sappiamo che cosa sia, dov'è, chi lo prenderà, lo prenderemo noi, lo prenderanno altre persone. Non sappiamo nulla ma sappiamo ragazzi ogni giorno sempre di più dalla nuova mappa. Tra l'altro andando avanti con gli argomenti volevo anche farvi vedere ragazzi il nuovo quartiere. Questo è il nuovo block, si chiamerà Turtles, quindi Tartaruga ed è veramente assurdo. Io non ricordo adesso chi sia il creatore di questo, di questo block ma ragazzi è veramente un quartiere che sicuramente varrà la pena esplorare e vivere a pieno. E andando avanti ragazzi gli argomenti sono sempre super interessanti perché questa è la skin di cui vi parlavo. La skin gratis sembrerebbe che si potrà ottenere ben presto. Si dice che per ottenere questa skin dovremo scaricare l'applicazione vocale Vivo XL. Non è ancora possibile in questi giorni ottenere questa skin perché è già nei file di gioco ma non c'è ancora nessuna notizia ufficiale. Ma sembrerebbe che scaricando l'applicazione Vivo XL automaticamente ci verrà assegnata la skin al nostro inventario. Ovviamente appena avrò delle informazioni più dettagliate e più precise sarete i primi a saperlo. Andiamo avanti ragazzi e parliamo di un'altra cosa che forse non tutti hanno notato. Gigi parla banana raga, la banana è OP. Non vedo l'ora di sbloccare la bananola raga perché ho già capito che l'ignoranza viene insieme alla banana. Questa è un'immagine molto importante, ufficiale della season 8. Se per caso avete dei problemi a completare una sfida, beh ragazzi andate nella vostra dashboard, nella sezione sfide, dovete giocare in squadra però mi raccomando, cliccate sulla sfida che non riuscite a fare e ci sarà una voce che vi dice condividi con i compagni di squadra. In poche parole, se qualcuno durante la partita che state facendo, dei vostri compagni di squadra casualmente fa qualcosa che ci chiede la sfida di fare, vi viene assegnato anche a voi l'obiettivo. Anche se il nostro compagno di squadra ha già completato la missione che gli stiamo chiedendo di fare per aiutarci. Quindi ragazzi sicuramente molto molto interessante anche questa nuova funzionalità che ci permette sicuramente di compiere le sfide in maniera molto più veloce. E andiamo avanti ragazzi ed ecco qua un'altra cosa super super interessante. E' stata trovata una camo, quindi una copertura per le armi, una skin per armi e veicoli che si chiama lava. Quindi una skin che andrà ovviamente a riprendere una delle più grandi novità di questa season numero 8 che è appunto la lava che fuoriesce dal vulcano. Abbiamo anche la texture, ovviamente non è colorata perché nei codici sorgenti le texture non sono colorate ed è molto probabile che questa skin sarà a pagamento. Quindi è esclusivamente acquistabile nello shop. Non vedo l'ora ovviamente ragazzi di vederla con i colori originali e ovviamente di usarla. A me le camo per le armi, piacciono veramente tantissimo. Ma andiamo avanti e parliamo ancora dell'ultimo argomento, un argomento davvero interessantissimo. Se vi ricordate nella season precedente abbiamo avuto la possibilità di ottenere con il pass battaglia una schermata di caricamento animata. Che tra l'altro se andate a vedere nel vostro armadietto è l'unica schermata di caricamento con rarità rara. Mentre le altre sono tutti non comuni. Beh ragazzi sappiamo che presto, probabilmente in questa season, ci saranno anche le skin per armi e veicole animati. Questa è un'immagine che ce lo conferma, un messaggio che dice in questo momento non hai skin animate. Ma ragazzi anche qua un'altra grande novità che non vedo l'ora di vedere con quello che arriverà nei prossimi giorni. Beh ragazzi io per oggi vi ho aggiornato di brutto su quello che c'era da sapere. Vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!